Signore, l'avete fatta la calza ai bambini? Sì, più carbone o caramelle? Basta guardarlo in faccia. Più carbone o caramelle? Caramelle. L'ho fatta e dentro c'erano mandarini, le noci, le banane, eh qui cosa c'è? E caramelle? No, niente caramelle, come mai? Eh, perché sono una mamma bio, diciamo. Niente carbone? Niente carbone, cipolle. L'hai ricevuta la calza della Befana? Sì. E che cosa c'era dentro? Lego. Il lego? E quale lego c'era? Lego City. Ma era quello che volevi? Sì. Il carbone c'era dentro? No. Quindi sei stato buonissimo quest'anno? Sì, sì. C'era il carbone buono e quello dolce. Il carbone non c'era? Il carbone non c'era. C'erano tanti dolci e poi nella calza della Befana c'erano due calze, caldini antisiboli. Il carbone? Il carbone no, non c'era. Ancora non l'abbiamo avuta. Che cosa speri che ci sia dentro? Boh, io dicevo al babbo che ci sia giochi ma non ci sono giochi. Io pensavo... Poi mi hanno detto... Sei un po' deluso? No, dai. Caramelle o giochi è la stessa cosa. Ha visto la Befana un po' intimorito. E che cosa c'è dentro la sua casa? Beh, tanti libri e anche dei bei DVD di cartoni animati di Walt Disney e poi tanti auguri di una vita serena e divertente con i genitori e tutta la famiglia. Auguri a Francesco. Grazie, ciao.